Salve a tutti, in questo video vediamo come identificare il modello del proprio computer, quindi vediamo portatili e fissi. Vediamo intanto i portatili perché probabilmente è il caso più frequente, dato che di un fisso solitamente si va a cercare il singolo componente per l'aggiornamento dei driver. È invece importante nei portatili cercare il modello completo perché su internet, sul sito, in questo caso dell'HP, perché è un modello HP, si può andare a cercare tutti i vari driver, compresi eventuali aggiornamenti del BIOS, sul sito del produttore cercando il modello per intero. Allora, prima di tutto se non lo vedete qua il modello, ad esempio qui c'è scritto Pavilion, ma ci vuole il modello per esteso, Pavilion ce ne sono tanti, quindi cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto chiudiamolo se non è qui, se qua avete il modello per esteso completo, bene, quindi lo cercate intanto qua nella zona frontale, se non c'è, guardate, sia lateralmente, ma è più facile che sia in questa posizione, adesso vi faccio vedere. È più facile che sia o qui, quindi dove c'è il vano batteria, o qua, da qualche parte, o sotto degli sportelli, quindi magari se non è qui togliete la batteria e guardate se è dietro la batteria. In questo caso il modello è scritto qua, vedete, per esteso, ed ecco qua, quindi adesso vado a cercare, il modello è un Pavilion, però è un i7 AB204NL, questo è il modello completo, eccolo qui. Quindi esaminate tutte le varie parti del portatile, se avete difficoltà, se proprio non lo trovate, potete guardare nel BIOS, quindi riaccendete il computer e subito all'avvio entrate nel BIOS. Allora, come si entra nel BIOS del computer, quindi fissi e portatili? Si può accedere al BIOS proprio nei primi secondi di accensione del computer, quindi appena lo schermo è ancora nero, ma si sta accendendo, si sta avviando, nei primissimi secondi dovete premere il tasto per entrare nel BIOS. Potrebbe essere il tasto CUNCH o DELL della tastiera, potrebbe essere uno dei tasti tipo F2, F10, anche ESC potrebbe essere. Mi pare che questo modello non abbia il CUNCH per entrare nel BIOS, ma abbia l'F10, adesso proviamo, altrimenti metterò in pausa il video e proverò vari tasti all'avvio. Ovviamente la miglior cosa sarebbe guardare sul manuale, lo so che molti di voi non avete il manuale e non sapete come reperirlo, perché serve il modello, il nome del modello, per reperire il manuale stesso. Quindi in questo caso se non avete modo di capirlo o cercate su internet come entrare nel BIOS su, perlomeno, nome della marca, su HP, su Pavilion, su Lenovo, su Acer, eccetera, eccetera. E magari lì vi danno delle indicazioni. Comunque di base sono questi tasti F2, F10, CUNCH, ESC, F1. A volte c'è scritto qua subito nell'accensione premere TOT per entrare nel BIOS, non è detto, dipende. Adesso io provo F10. Altrimenti ne proverò altri. Ok, ho trovato il tasto, alla fine era il tasto ESC nel mio caso, ed ecco qua cosa ci chiede. System Information, System Diagnostic, in realtà System Information già potrebbe darci il risultato, però entriamo nel BIOS, quindi F10, BIOS Setup. Quindi in questo caso, per questo modello, bisogna premere prima ESC all'avvio e poi F10 a questa schermata. Ed eccoci nel BIOS, e come vi ho detto, ecco qua il modello per esteso. Eccolo qua. HP Pavilion 1AN61EA. Adesso avrete notato che questo numero è diverso da quello che c'è là sotto. In realtà, se io lo cerco su internet, trovo quello lì, con tra parentesi scritto questo. Quindi in questo caso va benissimo. Però è un number e questo è HP Pavilion. Quindi cercate in questo caso HP Pavilion 1AN61EA e troverete il modello corrispondente. Quindi possiamo andare poi sul sito del prodotto a cercare tutti quanti i driver. Ora, per quanto riguarda i fissi, sapete benissimo che i fissi non è detto che abbiano un modello e una marca. Perché se siete stati voi ad assemblarli o se ve le ha assemblati qualcuno pezzo per pezzo, non c'è un modello corrispondente. Se invece ha un modello, molto probabilmente troverete l'etichetta attaccata a un lato del case. Quindi laterale, possibilmente. Guardate anche dietro. Se non lo trovate, anche qui guardate nel BIOS. Ma se non c'è il modello, nessuna paura. Perché in realtà, nei fissi, la cosa principale, la cosa migliore da fare è esaminare i singoli componenti. Quindi aggiornare i driver dei singoli componenti. E come faccio a vedere che singoli componenti ho? Ci sono delle applicazioni che ci aiutano. Io, ad esempio, utilizzo Specci. Non so qual è la pronuncia esatta. Adesso ve lo faccio vedere sul mio fisso. Ed eccoci qua sul mio computer. Io utilizzo, come ho detto prima, questo programmino. Ce ne sono altri, però questo è gratuito. Perlomeno c'è la versione gratuita. E funziona benissimo. Si chiama Specci. Vi faccio vedere Help About. Eccolo qua. Specci. Che è di Ccleaner. Quindi www.ccleaner.com slash Specci per trovare il programma. Allora. Su questo programmino, come potete vedere, c'è un sommario. Quindi un riepilogo. E già qui troviamo il processore. La RAM. La scheda madre. Questa è la cosa più importante. Perché solitamente è questa. È un po' più difficile da capire per il modello. Quindi qua trovate il modello per esteso. E appunto, se voi accedete al BIOS di un computer fisso, probabilmente trovate invece il modello della scheda madre. Soprattutto se quel fisso non ha un nome modello. Se è stato assemblato a pezzi. Quindi, MSI B75MA P45. Questo è il modello che devo andare a cercare se voglio andare a trovare ad esempio un aggiornamento del BIOS. E con questo programmino possiamo vedere anche in motherboard a che versione è il BIOS. Quindi se trovo sul sito una versione che mi dice 1.9, io so già che ce l'ho. Eccola qui. Aggiornata. Se invece trovo 2.0, allora posso installarla. Quindi qua è tutta la parte relativa alla scheda madre. Qua graphics per la scheda video. E qua mi dice che ho un Anvidia GeForce GTX 1060. Anche questo per i driver. Molto molto comodo. Qua storage. Quindi gli hard disk. L'audio. La mia scheda audio. E tutti gli altri componenti. Quindi periferiche varie. Network per la scheda di rete. Ecco qua. Vedete? Quindi con specci potete avere il riepilogo di tutti i vari componenti. Utilissimo per andare ad aggiornare i driver soprattutto su un computer fisso. Nel portatile è sicuramente consigliato reperire invece il modello del computer. Perché sul sito del produttore trovate tutte le varie periferiche da aggiornare. Incluso il BIOS della scheda madre. Se invece siete su un fisso. Ha senso andare a cercare semplicemente il modello della scheda madre su internet. Per cercare poi il BIOS. Oppure andare a cercare il modello della scheda video per i driver della scheda video. Eccetera eccetera eccetera. Quindi spero di essere stato utile. Vi ho dato un po' tutte le varie informazioni. Mi raccomando nel portatile. La prima cosa che dovete fare è andare dietro il computer. Perché è quasi sempre scritto lì. Non c'è bisogno di entrare nel BIOS. Altrimenti se non lo trovate. Entrate nel BIOS. Un saluto a tutti.